Non ci sentiranno? Allora, siamo qui a sentire una formidabile orchestra di giovani che suonano gli ottoni, manco fossero, del sanghiere. E' in occasione della giornata del camminare, che è una giornata importantissima. Camminiamo ragazzi, chiudiamola con le macchine, finiamo la nostra storia di dover pagare la tangente ai produttori petrolio. Camminare fa bene alla salute.